Il comando vice delle scuole Hanno parlato dei tre grandi simboli in quell'occasione La Costituzione, il tricolore e l'inno di Mameli Vi sembra che tutte le manifestazioni sui dati Si sono concentrate proprio su questi tre argomenti Che già a Mariano sono stati iniziati il 4 novembre Oggi la stiamo festeggiando gli dati E vi sembra che anche Mariano è risposta A questo grande affetto del Presidente della Repubblica Ci sono state le scuole, c'è il comando vice C'è il Consiglio Comunale Unite che sta Premiando o riconoscendo i marianesi Che hanno reso famoso Mariano all'estero Che possa dire, viva l'Italia, viva Mariano Viva la Costituzione Che possa dire, viva l'Italia, viva l'Italia Viva l'Italia, viva l'Italia Oggi la bella città di Mariano ha deciso di festeggiare insieme a tutta la cittadinanza Questa giornata del 150esimo anniversario Il ricordo di questa festa E alla scuola d'Antoni Ieghi Per la collaborazione di questa giornata Mariano all'Italia, viva l'Italia, viva l'Italia, viva l'Italia Viva l'Italia, viva l'Italia, viva l'Italia Questo grande sogno che non ci abbandona mai Una grande squadra che mai sola resterà Io ci sarò con te Io ci sarò perché sei tutto per me Questa giornata così festosa Non poteva non mancare la Marianese Calcio La Marianese Calcio sta in piazza stamattina Per farsi conoscere ancora di più Da tutti quelli che non conoscono la Marianese Calcio E che non ci onorano purtroppo Al campo sportivo comunale di Brusciano Perché le nostre partite in casa si giocano lì a Brusciano Io mi auguro che con questa piccola manifestazione Qualcun altro dei marianesi possa conoscere E seguire la Marianese Calcio Grazie a tutti, buon compleanno, viva l'Italia Ma vinci per noi, vinci per noi, vinci con noi